Lo stabilimento balneare La Rosa Blu di Martinsicuro diventa ancora più accessibile. Già questa struttura presenta le caratteristiche di uno chalet per i portatori di endica, comunque di facile accessibilità, ma è stata perfezionata nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, un'ulteriore progettualità. Di cosa si tratta? La progettualità a cui si fa riferimento è la realizzazione del percorso tattile per persone cieche e ipovedenti. Diciamo che la struttura è veramente ad altissima accessibilità perché tutti i suoi luoghi, naturalmente la spiaggia e il mare, sono accessibili alle persone con disabilità o con difficoltà motorie. Il percorso tattile per ciechi e persone ipovedenti è un elemento ulteriore di inclusione di questa struttura. La realizzazione è stata fatta, è stata e avvenuta nel 2024, prima dell'inizio della stagione, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo, a cui Anfas Martinsicuro ha partecipato insieme ad altre Anfas, Anfas Regione Abruzzo e altre Anfas della Costa. Il progetto è Bike to Coast for Everyone, è un progetto sul turismo accessibile. Chiaramente la nostra struttura era assolutamente adatta alla partecipazione a questo tipo di progetto. Quindi il percorso tattile parte dall'ingresso della struttura, la attraversa interamente, conduce fino alla grande passerella che porta agli ombrelloni naturalmente attrezzati, anch'essi con passerelle e al mare, e poi porta ai servizi, quindi bagni e spogliatoi. Naturalmente, diciamo anche in passato, avevamo avuto visite di persone con una disabilità legata alla vista e quindi adesso c'è anche questo tipo di ausilio molto importante.